freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance ok Miriam Sabolla bene ciao a tutti e mi sono presa agli appunti perché sennò non mi ricordo niente perché stanotte ho dormito troppo e non sono abituata ecco grazie Silvia passa in sovraimpressione l'argomento di questo di questo speech ovvero volevo raccontarvi che cosa ho fatto durante la pandemia e che palle facciamo altri che parlare di questa cosa però avevo messo come titolo sul mio post it durante la pandemia ho fatto il pane ho infornato la pizza e ho scritto un libro un po' come tutti insomma in realtà volevo anche iniziare questo questo mio breve intervento facendovi una domanda cioè volevo sapere se tra di voi ci sono delle bimbe di Francesco Costa o dei bimbi di Francesco Costa quindi ecco sono nella bolla giusta per fare questa battuta perché Francesco Costa che è un giornalista anche vice direttore del post e autore di un podcast sugli Stati Uniti e anche di due libri sugli Stati Uniti per promuovere il suo secondo libro che è uscito mi sembra verso ottobre novembre no forse gennaio io non ho più la cognizione del tempo con tutti questi lockdown zone rosse così lui diceva sempre a voi durante la pandemia avete fatto il pane e io ho scritto un libro e io volevo dirgli ma io ho fatto tutte e due le cose quindi ti è va bene gli vogliamo tanto bene e quindi volevo raccontarvi questa esperienza di scrivere un libro perché perché scrivere un libro se comunque abbiamo un'attività che insomma non è un'attività da autori di libri però secondo me il motivo per cui io l'ho scritto fondamentalmente anzi i motivi sono fondamentalmente tre un libro dà molta legittimazione al nostro lavoro nonostante magari siamo i più bravi del nostro settore abbiamo tanti clienti ci viene riconosciuto dai nostri clienti che insomma sappiamo fare il nostro lavoro ancora oggi nel 2021 la carta stampata come dire ha un fascino irresistibile è un fascino irresistibile anche verso dei potenziali clienti quindi questo può essere già un primo motivo per imbarcarsi in questa avventura che non è così immediata e semplice il secondo motivo è che sicuramente un libro ha un pubblico diverso rispetto a quelli che sono magari i nostri target di riferimento per esempio sui social o per i nostri siti le nostre newsletter quindi è qualcosa che ci può aiutare anche un po' a diciamo ad ampliare il nostro target potenzialmente e a farci comunque riconoscere da un target diverso il terzo motivo è che e questo per quanto mi riguarda quello che un po' di più di tutto mi ha convinto è che un prodotto non effimero cioè rispetto alla velocità alla così alla scorrevolezza dei nostri delle nostre timeline di instagram o non so se facciamo video su youtube o comunque rispetto alle cose digitali quindi è pur vero che un libro è qualcosa che comunque ha innanzitutto un supporto fisico poi può anche non averlo però di solito ce l'ha ed è qualcosa che rimane quindi volevo come dire trovare il modo per divulgare i miei argomenti i miei contenuti a un pubblico che fosse più ampio di quello che di solito comunque mi segue o mi conosce avere una sorta di legittimazione così ufficiale e lasciare un segno tangibile quindi se volete provare a fare questa cosa, a imbarcarvi in questa avventura innanzitutto bisogna pensare a cosa scrivere e direi insomma il primo punto fondamentale che cosa scrivere per chi fa lavori diciamo come i nostri quindi creativi barra digitali barra artigianali insomma a seconda di come vi definite potrebbe essere un libro per esempio di divulgazione e il libro che ho scritto è molto divulgativo tant'è che poi quando ho finito di scriverlo ovviamente mi sono fatta prendere dalla sindrome dell'impostore e ho pensato ho scritto solo cazzate ho scritto banalità, ho scritto cose ovvie in realtà sono cose ovvie magari per me o per chi ha già dimestichezza con certe cose ma poi in realtà per chi non ce l'ha forse non lo sono e quindi la divulgazione potrebbe essere una delle cose su cui puntare oppure potrebbe essere un libro che dà un approccio pratico dei consigli proprio pratici, fattibili che si possono mettere in pratica da subito su determinati argomenti o ancora un libro che magari questo però è un po' più difficile che magari introduce una tesi nuova, un'idea nuova su un determinato argomento questo è molto difficile perché chiaramente mi viene da dire che non lo so forse fra di noi c'è un futuro premio Nobel però su certi argomenti un po' è già stato scritto tutto però non è detto magari voi avete un'idea innovativa e una volta capito su cosa vogliamo scrivere bisogna un attimo capire come proporlo cioè come realizzarlo e lì ci sono diverse strade ovviamente c'è la strada del self-publishing che però secondo me dipende un po' dal libro che volete fare può essere fattibile magari anche con un crowdfunding se avete ci sono dei casi molto famosi di successo di libri creati col crowdfunding per esempio Storie della Buonanotte per Bambini e Ribelli è un libro che è nato col crowdfunding e poi ha venduto milioni di copie quindi insomma gli è andata bene poi appunto c'è il self-publishing ovvero pubblicare in proprio o con le proprie risorse o appunto con le risorse eventualmente di un crowdfunding su una di quelle piattaforme che permettono appunto di stampare creare e stampare i propri libri questo ovviamente ha anche dei costi perché dovremmo pagare se non siamo dei grafici dovremmo pagare un grafico che lo impagina e dovremmo poi pagare i costi di stampa quindi dipende un po' secondo me la cosa migliore da questo punto di vista anche un po' per realizzare quegli obiettivi di così di legittimazione e di arrivare a un pubblico più ampio possibile quindi essere distribuiti in libreria è ovviamente appoggiarsi a un editore arrivare a un editore non è semplicissimo perché o avete già voi dei contatti e comunque anche se ce li avete non è detto che vi caghi no? tra virgolette scusate l'espressione tecnica o che comunque il libro sia di interesse per l'editore che conoscete già oppure fate la questua come fanno tanti e mandate la vostra idea il vostro concept agli editori che vi sembrano più in linea con i contenuti che volete proporre ovviamente scrivere un concept quindi un abstract con diciamo l'idea generale del libro quindi un paio di pagine e una scaletta dei contenuti che poi potrebbero essere i possibili capitoli di questo libro è diciamo il materiale che vi serve per proporvi ovviamente insieme a una vostra presentazione quindi se avete un portfolio un media kit questi due diciamo questi due documenti sono quello che vi serve poi per proporvi quindi potete fare un po' la questua a tutti gli editori magari trovate qualcuno che vi ascolta e manca vi dice sì questa cosa mi può interessare magari cambiamola un po' così facciamola diversamente oppure la terza strada che è quella che ho seguito io è quella di affidarsi a un agente un agente letteraria o letterario secondo che sia maschio e femmina che fondamentalmente fa questo lavoro per voi cioè vi aiuta a confezionare la proposta in modo che sia comunque appetibile per le case editrici quindi è una persona che deve conoscere il mercato editoriale che deve sapere che libri possono funzionare e come anche la vostra figura il vostro lavoro può essere inserito in questo mercato editoriale e poi vi aiuto ovviamente a fare le proposte ai diversi editori perché di solito è una persona che ha contatti con le case editrici anche contatti personali ovviamente questo ha un piccolo costo perché a seconda della gente di quanto è famoso di quanto è bravo eccetera vi chiederà una fee che è di solito una percentuale sui diritti però può essere una cosa comunque conveniente io mi sono affidata a un agente che ho conosciuto prima della pandemia quindi questa idea del libro è nata ancora quando insomma non eravamo non eravamo in questa situazione infatti poi il mio libro ha avuto una genesia abbastanza lunga per questo motivo la mia gente ha proposto il libro a 5 case editrici 4 l'hanno rifiutato perché avevo pochi follower su Instagram è vero e purtroppo appunto questa è una cosa che vi devo dire l'editoria al momento soprattutto l'editoria di questo tipo quindi la varia la saggistica ma anche la narrativa essendo un po' in crisi loro cosa cosa fanno non vogliono praticamente assumersi nessun rischio di impresa quindi vogliono che tu pubblichi il libro che poi abbia già un pubblico a cui venderlo no perché se hai chiaramente se hai 300.000 follower un milione di follower due milioni di follower se anche il 10% soltanto di questi compra il libro capite che le vendite sono buone e quindi non vogliono fondamentalmente rischiare e per cui qua allora a un editore non interessava gli altri tre mi hanno detto bellissimo progetto idea stupenda però ci dispiace ma noi sotto i 10.000 follower non li guardiamo neanche gli autori poi vabbè andateglielo a spiegare che uno se li può anche comprare se vuole ma vabbè e invece alla fine una di queste case editrici ha soprasseduto al mio terribile peccato di non avere un sufficiente numero di follower e ha accettato di pubblicare il libro una volta arrivato diciamo nelle mani della casa editrice cosa succede? c'è un editor che fondamentalmente è la persona che un po' anche a seconda della granza della casa editrice però decide anche un po' la linea editoriale e fondamentalmente sulla base di quel documento che voi gli mandate con l'abstract e diciamo la scaletta vi dà un po' di indicazioni su come potreste impostare il libro quindi insieme si decide fondamentalmente su cosa deve essere il libro poi vabbè nel mio caso c'è stato di mezzo marzo-aprile 2020 dove tutto si è bloccato il mondo stava per finire dopodiché ci siamo un attimino ripresi momentaneamente quindi il mio libro è stato acquisito dalla casa editrice che poi l'ha pubblicato ho firmato il contratto e siamo stati così a a cazzeggiare fino a dicembre e a dicembre poi hanno approvato la scaletta e poi il 15 gennaio mi hanno detto lo vogliamo fra un mese e quindi io poi in un mese ovviamente avevo già fatto tutta la fase preliminare di ricerca cioè non è che ho fatto tutto in un mese però l'ho scritto in un mese quindi con tutto quello che ne consegue perché il mio lavoro si è quasi azzerato in quel mese però insomma poi il libro è partito è uscito e adesso lo trovate in tutte le migliori librerie anche online se invece voleste sapere qualche motivo per cui non farlo un libro quindi perché magari avete questa bella idea però volete sapere anche un po' i contro di questa di questa situazione beh innanzitutto non pensate di diventare ricchi scrivendo un libro meno che non abbiate proprio come dire la botta di fondoschiena o comunque siate già delle persone molto conosciute per esempio sui social non si diventa ricchi scrivendo scrivendo libri magari poi il mio libro diventerà un bestseller e l'anno prossimo vi dirò che avevo sbagliato ma è un grande sbattimento è un enorme sbattimento che appunto come vi dicevo implica anche magari mettere un po' da parte il proprio lavoro momentaneamente quindi anche un minore guadagno minori entrate e poi bisogna capire se è funzionale al vostro al vostro lavoro al vostro business nel mio caso mi sono detta di sì però magari può essere che non sia una cosa che può darvi qualche utilità cioè è molto bello avere vedere il proprio nome e vedere la copertina sugli scaffali della Feltrinelli però poi se non vi serve a niente diciamo che sappiamo che ormai che non viviamo solo per la gloria ecco non vi ho detto di cosa parla il mio libro perché in realtà ne parleremo il 31 agosto allo Zoom Club che si terrà appunto nei soliti orari poi vi arriveranno tutte le comunicazioni quindi se volete avere approfondimenti proprio sul contenuto comunque vi dico che si intitola Mangia bene lavora meglio come avete visto in sovraimpressione per cui l'argomento è il cibo visto che mi occupo di questo e l'organizzazione e niente quindi io vi aspetto poi il 31 agosto per approfondire invece il contenuto e se avete qualche domanda sono qui altrimenti ecco per saperne di più visita il sito www.freelancecamp.net e iscriviti alla newsletter riceverai subito 6 lezioni per diventare freelance migliori una raccolta di alcuni fra i talk più interessanti e utili del freelance camp e iscriviti al canale e iscriviti al canale